Vantaggi della globalizzazione economica 1. Accesso a un mercato globale più ampio. La globalizzazione economica consente alle imprese di raggiungere un pubblico più vasto e di espandere le proprie attività in nuovi mercati. 2. Aumento delle opportunità di investimento. La globalizzazione economica permette agli investitori di accedere a nuove opportunità di investimento in tutto il mondo, che possono portare a maggiori profitti e crescita economica. 3. Riduzione dei costi di produzione. La globalizzazione economica consente alle imprese di produrre beni e servizi a costi inferiori in paesi in via di sviluppo, grazie a salari più bassi e a condizioni fiscali più vantaggiose. 4. Scambio di conoscenze e tecnologie. La globalizzazione economica favorisce lo scambio di conoscenze e tecnologie tra paesi, permettendo di diffondere l'innovazione e promuovere lo sviluppo economico. 5. Migliore accesso alle risorse. La globalizzazione economica permette ai paesi di accedere a risorse naturali e materiali provenienti da diverse parti del mondo, aumentando la disponibilità e la diversità delle risorse. Svantaggi della globalizzazione economica. 1. Aumento delle disuguaglianze. La globalizzazione economica può creare disuguaglianze all'interno dei paesi, con la concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi, mentre altri rimangono svantaggiati o impoveriti. 2. Perdita di posti di lavoro. La globalizzazione economica può portare alla ristrutturazione e alla delocalizzazione delle imprese, causando la perdita di posti di lavoro nei paesi sviluppati o in determinati settori industriali. 3. Sfruttamento dei lavoratori. La globalizzazione economica può favorire la pratica dello sfruttamento dei lavoratori, specialmente in paesi con norme del lavoro meno rigorose, dove i diritti dei lavoratori possono essere trascurati per ridurre i costi di produzione. 4. Dipendenza economica. La globalizzazione economica può creare dipendenza economica tra i paesi, con situazioni in cui un paese è fortemente dipendente dalle importazioni di beni o servizi da altri paesi, rendendolo vulnerabile a eventuali crisi o instabilità. 5. Impatto ambientale negativo. La globalizzazione economica può portare a un aumento dell'impatto ambientale, con l'aumento del trasporto di merci e persone su scala globale, la deforestazione e l'esaurimento delle risorse naturali.